Sporcizia e degrado all'interno dell'hotel, ma non solo, anche violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi ed esplosioni, oltre che ad una generalizzata carenza igienico-sanitaria. Queste le criticità riscontrate a seguito del blitz dei carabinieri di San Giovanni Valdarno all'hotel Al River di Via Fratelli Cervi, assieme all'ufficio prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e alla ASLA Toscana Sud-Est. La struttura negli anni scorsi, in seguito ad altri controlli, era già stata declassata da tre ad una stella. Lo scorso 13 marzo la situazione alle forze dell'ordine è però apparsa nuovamente peggiorata. All'interno dell'albergo, durante il controllo, erano presenti una quarantina di persone. La situazione più critica è apparsa quella dell'anziana, una 78enne, invalida e non autosufficiente, è trovata in una stanza, in uno stato di degrado assoluto, tra rifiuti di ogni genere ed escrementi di gatto, ma in discrete condizioni di salute. L'anziana, per precauzione, è stata comunque accompagnata al pronto soccorso per un controllo complessivo e per un ricovero sociale. In alcune stanze, inoltre, sono stati trovati i fili della corrente volanti, mentre ognuno degli ospiti si era organizzato con fornelletti per cucinare, trasformando di fatto la struttura in qualcosa di simile ad un residence. Le violazioni penalmente rilevanti, ovviamente, sono state segnalate all'autorità giudiziaria di Arezzo. Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per circa 15.000 euro ed è stata chiesta la chiusura dello stabile per gravi violazioni di legge.